Vocal coach si affaccia al mondo della musica dalla giovane età di 7 anni con lo studio del clarinetto e poi continua con altri strumenti, con lo studio del sax, trombe e pianoforte. Al suo palmarès gli studi con il diploma al conservatorio di Tito Schuva di Lecce e poi continua la sua passione per il canto, investe di compositore e un bel giorno scopre anche di essere un grande vocal coach e talent scout. Dopo il conservatorio arrivano anche queste...